la chiamano sagra la prima nata 27 anni fa per celebrare il fungo cardoncello è diventata una festa nel senso più vero del termine stand bancarelle degustazioni e musica minervino murge la proloco ci crede da sempre è un patrimonio naturalistico e non solo naturalistico anche alimentare da proteggere da valorizzare il prodotto principe della murgia sempre meno spontanei sempre più coltivati pochi ma buoni però cucinati in tutti i modi come antipasto primo secondo e contorno un piatto misto con salsiccia di maiale tipica di minervino fungo cardoncello marretti sempre di minervino pocaccine olive fritte quelle di stagione che si fanno adesso fritte questo è un piatto tipico di minervino questi sono io li chiamo le scucchiate perché sono cardoncelli con orecchiette e strozzapriti diciamo con i pomodorini un po che tanto amore a loro e aglio quanti modi si possono preparare i funghi a in tanti modi ma se c'è l'amore sono sempre quelli più belli quelli fatti con amore